Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale. In Fipilì per incidente, coda tra Empoli ed Empoli Ovest verso Livorno. Verso Firenze, coda di un chilometro con tendenza all'aumento per lavori tra Monterupo e Ginestra. Ricordiamo che sono in corso lavori per circa 400 metri all'altezza del turbone. Percorsi alternativi sulla SP12 della Val di Pesa. Uno sguardo al traffico urbano di Firenze per la cantieristica in settimana nuova al via lavori per nuovi impianti di illuminazione in via Vecchia di Pozzolatico e via Ernesto Rossi e per posa di cavi in fibra ottica in via Marsuppini e via di Ripoli. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!